musica che ne sarebbe? la 1 rosa stava tornata fuori e hanno fatto l'allenamento e allora stia una ferrara che ci sorpassa e si mette annanzi e si arricchia allora Giorgio... no... aveva sorpassato la stia arricchia Giorgio quello fa incazzare si scaffa la terza dentro e lo amvecciava e li fa spostare ma tu li fresti a rapetti perchè chi lo sa incazzava che ha passato e niente e andavogli rompono quello tra una volta uuuuuh uuuuuh come si viste? guardate se poteva farlo uccidre a cosa a San Giorgio perchè siamo passati all'abbatia attiravate a quella cosa uuuuuh guarda qua guarda se riesco a portare la macchina o a dentro la cosa? fai lo zoom Federico oi mettala qua guarda se riesco a portare la macchina e andiamo a visitare il bosco di Blair dite che è brutto che è roba stiamo andando a trovare la strega di Blair io dico ma aaaaaah ma non sei più le pari ma dov'è si fa così sei il primo ma che non è che non è che ci sia il primo Grazie. no non si è scherzato non lo so, non lo mai si tira e so pure credo ti sento a panghettare? no, non so panghettare quello è bello quanto il pederino meno con i peli pesce lo devi stare dai 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 ti sento il 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 parla che dai Oh, 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 qua, eccolo. Ok, qua, 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 va. La pasta, va, va, va. Lascare qua all'etta. Finalmente. Eh, va. Ma lei? Ma lei, ta riuscora con la ricetta? È girissina. Ok, qua, 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 qua. È bello! È vero, è vero, è vero. Ferre. Allora, quello che faccio, qua, lì sentito, questo fa un ombre. No, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Ah, non è vero. Ah, poi fai così, non è vero. Perchè, non è vero. Ah, è stato guardato. Utovà! Ah, non è vero, non è vero. Sì, grazie. Già un ballo per te. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Non è vero, non è vero. Sì. Sì. E' il martello di qua. 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 E' il martello di qua.